Addio alla Turchia per Super Mario Balotelli, giocatore di origini italiane, giocatore di calcio ovviamente, calciatore. L'addio arriva per quanto riguarda la Turchia da parte di questo straordinario artefice o meglio artista del calcio giocato. Addio dunque alla Turchia, va diritto in Svizzera, precisamente nel Sion, potrebbe essere un contratto per lui fino al giugno dell'anno 2025, o meglio un contratto quindi triennale dove Super Mario dovrà garantire i risultati importanti al Sion e in Turchia, e in Svizzera. Convintamente sono dell'idea che saprà fare bene, saprà garantire ampi risultati, il talento di questo calciatore è elevato, è qualcosa di palese, solo commento che non tarderà di lasciare piene soddisfazioni in tutti quelli che avranno modo di rapportarsi con Super Mario Balotelli. Da narratore italiano è tutto, saluti cari, a passione.